Il problema non è tanto una classe politica, è quanto un'informazione che avalla questa classe politica, perché l'informazione che arriva, che qua avete ripreso la produzione, che è tutto a posto, che sì c'è ancora qualche container, che siete forti, che è un popolo forte, che si è ripresa la propria produzione, il discorso è questo, allora bisognerebbe sempre monitorare, perché quando va giù il faro dell'informazione ritorna tutto come prima. Solo mantenuto quello che abbiamo detto durante le elezioni, non è che veniamo ancora a farci belli durante le elezioni, abbiamo detto così, la differenza, se quello che risparmia non la vediamo qua. Vi ringrazio e ringrazio il movimento per questa ragione. Anche alla regione, quello che abbiamo dato, i consiglieri. noi siamo felici di poter contribuire di un minimo a questo disastro, ma poi non c'è altro. ... un... un... … un... 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 San Diego, per la piramera